ciao a tutti oggi facciamo un nuovo unboxing del newer nv880 versione per nikon d7100 che è un telecomando con il display e niente ci sono vari si può utilizzare su vari modelli di fotocamere e io l'ho preso su amazon l'ho preso amazon italia qua dietro in base alla camera che si ha ci sono i vari cavetti di utilizzo questo qua che ho io per la nikon d7100 più altri modelli ok adesso passiamo all'unboxing ok nella contezione troviamo un piccolo manuale che è prettamente in cinese e inglese troviamo il cavetto che questo è intercambiabile con le altre fotocamere il cavetto il telecomando con il display e le batterie come ripeto il telecomando è utilizzabile anche su più fotocamere però bisogna cambiare il cavetto questo qua è apposito per la nikon d7100 ok ragazzi ci vediamo per il prossimo video ciao ciao